Simone, il Giro delle Miri è una corsa per scalatori anche adatta a te, come stai? No, diciamo che sto bene, sono riuscito a mantenere una buona condizione nonostante siamo a fine stagione, quindi vediamo di far bene. Il bilancio del tuo 2015, molto ricco, molte esperienze e anche soddisfazioni. Sì, questo 2015 è iniziato presto, tante convocazioni in nazionale, sempre buoni risultati e quindi posso ritenermi soddisfatto. La prossima stagione, il grande salto con la Lampre, come lo stai vivendo? No, bene, già ho iniziato a fare qualche programma per l'anno prossimo, speriamo di riuscire a continuare a crescere e l'obiettivo è quello di dimostrarsi un buon corridore. Sono due anni comunque che corri con le continue, quindi fai questa attività a metà tra under 23 professionisti, pensi che ti possa aiutare in vista dell'approccio al salto completo tra i grandi? Certo, l'anno prossimo diventerò professionista a tutti gli effetti, però fortunatamente in questi due anni molte esperienze le ho già fatte, quindi spero sia più facile. Comunque ho avuto modo di confrontarti e anche i risultati sono stati positivi, ti aspettavi di rendere così anche in un ambiente come quello del professionismo? Sì, di sicuro ho sempre dato il massimo e ho ottenuto discreti risultati, quindi non posso lamentarmi. Ora non guardo quello che ho fatto e guardo quello che potrò fare, quindi avanti così.